Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi quest'oggi puntata fondamentale perché finalmente si torna in campo per una partita ufficiale Supercoppa europea contro il Paris Saint Germain E poi ragazzi bisogna completare il nostro calciomercato perché ci manca ancora un difensore centrale al posto di Vitic Vitic che tra l'altro è ancora in rosa quindi aspettiamo addirittura ancora la sua cessione Ma come al solito ragazzi prima di incominciare a giocare vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio o consiglio di perplessità E a seguirmi sulla pagina Instagram il link del profilo è come sempre in descrizione E anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione grazie al link che è in descrizione Detto ciò ragazzi possiamo scendere subito in campo Questa partita ha molte storie perché abbiamo appena fatto tre acquisti proprio dal Paris Saint Germain Ovvero Donnarumma, Marchini o Siachimi e sono tutte e tre in campo L'unico piccolo problemino è che PSG non ha solamente quei tre Anzi hanno preso pure De Bruyne al centrocampo Quindi sicuramente sono una squadra forte che ancora Mbappé e Neymar messi verosimilmente Si sarà ritirato però comunque c'hanno di Nebimbe che noi conosciamo alla perfezione Avendolo usato l'anno scorso Sicuramente è la prima per molti giocatori Però ragazzi sicuramente bisognerà provare a fare qualcosa di importante È una finale quindi la tratteremo come tale Quindi ragazzi andiamo in campo e vediamo un po' Ed eccoci qua ragazzi in diretta non so da quale stadio Spero che sia uno stadio effettivamente esistente No invece è uno stadio inventato dal gioco Stadio Un Europa Comunque ragazzi le squadre che entrano in campo Eccolo qui il Paris Saint Germain Il nostro capitano è Chachua Effettivamente uno dice perché c'è Chachua che fino ha fatto Farias Eccola qui la Supercoppa Bellissima Supercoppa che ovviamente Vede affrontarsi le squadre che hanno vinto rispettivamente La Champions League e l'Europa League Supercoppa che penso nel tempo sarà integrata anche per la Conference Diciamo questa qui è una cosa per la vita vera ovviamente Comunque ragazzi siamo anche in maglia bianca Purtroppo il PSG in un certo senso è in casa Perché ha vinto la Champions quindi è giusto che sia in prima maglia Noi avendo una maglia simile siamo stati costretti a cambiarla Però ragazzi non c'è problema se deve essere epica Sarà epica a prescindere Comunque ragazzi come detto appunto PSG Campioni in carica della Champions Noi campioni in carica dell'Europa League Quindi sicuramente ragazzi affronteremo questa partita A viso aperto da sfavoriti Ma allo stesso tempo ragazzi abbiamo costruito una squadra incredibile Eccola qui la Supercoppa molto bella Sono curioso a questo punto di vedere la formazione proprio nel dettaglio Perché il PSG presenta Remiro fra l'offensiva Il PSG su FIFA è famoso per essere molto offensivo E quindi in contropiede lascia tantissimi spazi Però ragazzi questo non vuol dire nulla perché Se il PSG gioca in un certo modo difficilmente riusciremo a fare qualcosa Però ragazzi tranquilli che sono molto fiducioso È una partita comunque di inizio stagione Quindi può essere che accada qualsiasi cosa Noi ovviamente rispondiamo con la migliore formazione possibile Ovvero Donnarum appena arrivato fra i pali Poi incappierlu che va Marchignos e Achimi Centrocampo con Kamavinga, Saivald e Nicolò Zaniolo Le punte, comunque gli attaccanti sono Nusa, Fatavi Saku E effettivamente la punta centrale è Shashua Perché ho deciso di mettere Shashua e non Farias? Semplicemente perché Shashua mi ha chiesto di scendere in campo E quindi ho deciso di assecondarlo perché secondo me è un giocatore Che merita di essere rispettato quando mi chiede qualcosa E quindi ragazzi ho deciso di partire con lui dal primo minuto Poi ragazzi ovviamente se le cose andranno male Farò scendere in campo Farias E oggi ho subito proprio Shashua che prova ad allargare Molto bene per Antonio Nusa che mi tratterà E va subito a calciare ma non ha calciato Poi il portiere non l'ha bloccata, si è buggato tutto Iniziamo bene Occhio ragazzi qui Buona giocata di Fatavi Saku Che si è centrato poi riesce a servire Shashua Attenzione, Shashua dimostra a tutti Perché volevi scendere in campo 1-0 La sblocchiamo, la sblocca In Genova Samuel Shashua il capitano della nostra squadra A me è rimasto solo lui rispetto ai giocatori iniziali Comunque Samuel Shashua 1-0 appunto Grandissimo Grandissimo gol Brutto errore difensivo del PSG Su un cross, su un lancio Di Fatavi Saku Come al solito si sono buggati E Shashua è riuscito ad arrivare in porta E oggi c'è ancora Shashua che prova di inventare la palle ottima per Antonio Musa Che va subito dentro Fatavi Saku Questo Paris Saint Germain sembra non riuscire a far nulla contro i nostri fenomeni Arriva subito il gol Nel 2-0 Fatavi Saku Pazzesco ragazzi Per il momento è incredibile il periodo che stiamo vivendo Perché veniamo da un pre-campionato estivo Veramente stradominato Con vittorie larghissime Non ho capito seriamente che è successo Comunque ragazzi godiamoci il momento Effettivamente la squadra è molto forte E io speravo sinceramente in una stagione Comunque spero in una stagione che sia effettivamente tutta così Perché ok dover sudare le cose Però arrivati a questo punto voglio anche vincere con abbastanza agilità Ecco E occhio Shashua Prova ancora ad inventare ragazzi Ma che partire che sta facendo Shashua Antonio Musa la può appoggiare Per Fatavi Saku Che trova il 3-0 Semplice semplice Incredibile ragazzi Troppo troppo facile Veramente qualcosa di incredibile Doppietta Per Fatavi Occhio Zaniolo La alza ancora molto bene Occhio Shashua Shashua Per il 4-0 Stavolta però Esagera con la forza E la palla è troppo alta Però mi sembrava ci fosse stata una deviazione E occhio al Parigi Adesso ci prova per la prima volta A calciare in porta appunto E Donnarumma però decide Che il suo ex compagno non può segnare Occhio al PSG In area qui bellissimo Ha giocato ovviamente di Kylian Mbappé Che riesce a servire col tacco dei Bruin Che col mancino Praticamente quasi a botta sicura Ma Donnarumma Fa un altro miracolo Ma occhio ancora Sinistera E un po' Palla per Bichuau Come si chiama Che riesce a calciare Ma c'è ancora Gigione Donnarumma E occhio ancora Neymar Evita Camavinga C'è Sinistera Prova le finte Bravo Luce Bama La palla è sempre lì Baturina Rimpallo stranissimo Il mio giocatore Che si stava toccando La pancia Questa è veramente strana Alla fine Palla clamorosamente Altra ragazzi Una partita assurda E comunque ragazzi Tenemmila anche il primo tempo 0-3 all'intervallo Stanno accadendo veramente cose strane Ma a parte tutto Una vittoria Più che meritata Perché il PSG Come capita sempre su FIFA Non difende Attacca ma non difende Occhio qui Baturina ruba palla A Camavinga Che effettivamente Un po' poco reattivo Comunque Donnarumma Decide ancora Che non si passa Ma occhio che alla fine Però Sinistera Riesce a segnare Sinistera Un nuovo acquisto Di il PSG Quindi Penso che sia soprattutto Per questo Che sia riuscito A trovare il gol Comunque qui destro Molto potente Qui neanche Donnarumma È riuscito a fare nulla Occhio Shashua prova da Zalla Bellissima per Zaniolo Era tutto regolare Che cosa aveva fatto Shashua Che in una forma Veramente incredibile Non a caso Mi ha chiesto Di scendere in campo Ma Zaniolo Qui spreca Cosa è buono ragazzi Regolare Ok 3-2 Però questo qua Lo voglio rivedere Sinceramente Qui allora Luca e Baga Non riesce a fermare Kylian Mbappé Poi sempre Luca e Baga Fa la scivolata Ma la liscia Calamorosamente Guardate qui E Mbappé Col sinistro Con Donnarumma Che si toglie Ok FIFA Ve l'ho detto ragazzi È una partita Veramente assurda Che non c'ha senso Quindi secondo me È importante Segnare minimo Un altro gol Perché Conoscendo FIFA Questa qua Ce la renderà Molto più pericolosa Di quello che poteva sembrare E proviamo a ripartire Fatavista Qui in avanti Per Shashua Shashua C'è da solo Da quell'altra parte Nusa Che ci arriva E riesce a metterla dentro 4-2 Antonio Nusa Raga Basta un contropiede Fatto bene Che questi non marcano Perché sono tutti in avanti 4-2 Torniamo a meno Su un doppio vantaggio Che è sicuramente Molto più rassicurante Ancora Shashua Protagonista Con questo assist Ok ragazzi Quintuplo cambio per noi Dentro Matasso E Xavi Simons A centrocampo E poi il tiro offensivo Velasco Farias E Luca Romero E oggi a Xavi Simons Sfruttiamo i giocatori freschi Tra l'altro Un ex Xavi Simons Palla per Farias Farias Regaliamo il gol dell'ex A Xavi Simons Che se lo mangia Clamorosamente Tra l'altro Qui stranezza Ancora il più grande Xavi Simons Si è improvvisamente Fermato E non ha continuato La corsa Ok Dai ragazzi Che è praticamente finita Ma noi siamo ancora in avanti Con Romero Romero Ci riproviamo E stavolta Xavi Simons Trova il gol dell'ex 5-2 Partita Stravinter PSG Ha provato giusto Giusto un attimo A spaventarci Ma poi Appena abbiamo capito Che il filo Poteva rovinarci Questa festa Abbiamo ricominciato A giocare Abbiamo segnato Altri Due gol 5-2 Qui ovviamente Ragazzi subentrati Fanno la differenza Essendo molto fresche E molto più rapidi Rispetto agli altri Xavi Simons Qui riesce a trovare Un gol Che sicuramente Gli fa togliere Tante soddisfazioni E tanti sassolini Dalle scarpe Comunque dovrebbe arrivare Dovrebbe arrivare anche subito Il fisico dell'arbitro 5-2 Vinta anche La Supercoppa Europea Diciamo che siamo stati Molto fortunati A beccare Il Paris Saint Germain Visto che Ragazzi PSG Su FIFA Se non ci mette Lo zampino FIFA Appunto È una squadra Veramente semplice Da affrontare Perché sì Potresti subire tanto Ma allo stesso tempo Quasi al 100% Riuscirai A costruire tanto Comunque Arriva subito La prima azione Il capitano Shashua è uscito Vediamo a chi è stata affidata Automaticamente La fascia Sinceramente Non lo so Eccola qui La Coppa Veramente bella A me comunque piace Ah ok Quindi automaticamente Data a Marchignos Pure FIFA Ha capito Le mie intenzioni Per così dire Comunque eccoci qua A festeggiare il primo Trofeo ufficiale Stagionale Dopo la Supercoppa Estiva Arriva Una Coppa Molto molto più importante Arriva La Supercoppa Europea Comunque Marchignos Che subito Da leader Alza questa Coppa Al cielo Che forse Ha già vinto Nella sua storia Visto che Il PSG In Champions Domina spesso In questa mia carriera Comunque Eccolo qui Il festeggiamento Ancora la Coppa Che si alza Con tanta gioia E tanto amor Diciamo È una celebrazione Un po' Meno accurata Come se si volesse Dare meno peso Alla Supercoppa Europea Forse solamente Perché Siamo ancora In preparazione In estate Non lo so Comunque ragazzi Fantastico Il riflesso Nella Coppa Ci avete fatto caso Molto inquietante Ma fantastico Allo stesso tempo E ok ragazzi Subito le mail Vitic Richiesto dal Valencia Benissimo 4 milioni e mezzo In più Che però Non andranno Ad aggiungersi Ad aggiungersi Al budget So che la General Fu ha parlato Di me Mi ha segnato Vincere Centrocampista Offensivo Ma tu effettivamente Sei un centrocampista Offensivo Quindi FIFA Non ha senso Che tu mi fai uscire Ste cose Comunque A parte questo L'offerta per Vitic FIFA riesce sempre A sviarmi Con i suoi bug Comunque Martin Vitic Ragazzi Allora Nella scorsa puntata Ricordo praticamente bene Visto che ho registrato ieri Che abbiamo inizialmente Provato 35 milioni Che effettivamente Erano troppi Piano piano Abbiamo abbassato Fino a 31 32 Con la società Da 31 Non andavano bene Vediamo un po' Col Valencia Si andranno bene Sinceramente Io vorrei partire sempre Da 32 Come base iniziale Vediamo un po' Il Valencia Che ci risponde Richiudono a prescindere Boh ragazzi Ci sono squadre Che a 32 Avrebbero secondo me Accettato E altre invece Che richiudono a prescindere Non lo so Forse bisogna trovare Effettivamente La squadra giusta Boh Comunque il mio obiettivo E vendolo assolutamente Sui 30 Questo è poco Ma sicuro Però Ce la faremo Cioè questo è il grande quesito Comunque Nuova offerta Lo Sasugna Ragazzi Mo arriva Lo Sasugna Mo volete vedere Che mi accetta Lo Sasugna E le altre squadre Mi richiudono Però ragazzi Vitic ha avuto un calo Veramente drastico Nella valutazione Lì Si è scritto Che possiamo arrivare Massimo a 23.9 Ed è effettivamente poco Quindi a suo punto Ragazzi Facciamo 30 Cifra Tonda tonda Però allo stesso tempo Al massimo Scendo a 29 Ok Sono saliti di poco Comunque lì Per quanto riguarda La tensione Quindi secondo me Potrebbero accettare Ok ragazzi Alla fine Facciamoci andare bene Questi 30 milioni E vediamo un po' Se riusciamo a prendere Un sostituto Se riusciremo a prendere Un sostituto All'altezza Comunque Non si fermano All'offerta Adesso arriva Il Nottingham Forest Quindi vado a trattare Anche con il Nottingham Forest Magari può decidere Di andare a giocare In Inghilterra Primo ha fatto 30 Stavolta facciamo 31 Vediamo che dicono 22.5 Di qua aumenta Molto di più La tensione Rispetto a prima Facciamo 35 Ma sempre per provare Di incassare Qualcosina in più Rischiusano subito Quindi mi sa che sarà Destinato Ad andare a giocare In Spagna A sto punto Che sicuramente È un'ottima destinazione Quindi speriamo Che non si lamenti E infatti ragazzi È proprio così Vitic parte Ufficialmente Andrà a giocare In Spagna Allo Sasugna Ceduto per 30 milioni Cifra Bella Tonda tonda Vediamo un po' FIFA come ci valuta Il tutto Sicuramente ci darà Una A E migliore offerta possibile 32.4 Non è vero FIFA Perché ogni volta Che facevo questa offerta Mi rifiutavano a prescindere Quindi Non è vero E adesso ragazzi Vediamo il budget Di 35 milioni Che diciamo Sarà il budget Lo possiamo anche spendere tutto Per prendere Il nuovo difensore centrale Quindi ragazzi Direi di spendere tipo 30 milioni Così siamo sicuri Al 100% Che andrà tutto Precisamente Però Riusciremo a trovare un giocatore? Non lo so Perché appunto ragazzi Siccome vi ho mostrato Anche nelle scorse puntate Io avevo delle preferenze Cioè Io penso che quasi sicuramente Saremo Tra piccolette Costretti Ad accontentarci Di Nianzu Però io avevo Sinceramente Altri interessi No? Per così dire Perché c'era Un Kalulù Dovrebbe andare Che sia minimo Facciamo anche Massimo 35 Poi pure per questa puntata Problema Però secondo me Per il Seyvald Questa cifra è corretta Questa cifra è corretta Prendiamo un sostituto 101 milioni L'ansia che ce la facciamo Che ce la facciamo con i soldi È 25 anni Ma è comunque un 83 Quindi diciamo Io I 25 anni Li voglio minimo Li voglio minimo Sull'85 Però ragazzi Va bene lo stesso È l'ultima stagione Molto probabilmente Quindi Va benissimo Ci chiede turnover E ragazzi Che un 83 Ci chieda turnover È molto significativo Sulla crescita Che ha avuto La nostra squadra Ecco Purtroppo Lo stipendio Lo fa scegliere a me Però Dovremmo farcela E invece no ragazzi Perché la sta scritto Due milioni E se vado a mettere Così Si bagga tutto Non ho mai capito Sta cosa Però Vediamo un po' Magari può essere Che accetti Tipo 50 mila Perché comunque Cambia campionato Roba così Quanto posso mettere qua Massimo 600 mila Facciamo così Potrebbe essere Un'offerta Veramente povera Ma allo stesso tempo Potrebbe essere Più che sufficiente Vediamo 50 500 Eh Immaginavo Ma ragazzi Ma in realtà Se levo il bonus Ma secondo me Si può fare Se tipo Gli alzo A 55 Secondo me Per poco poco Ce la facciamo Facciamo 55 No Non posso salire Però aspetta 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 Perché Se Abbasso qui No Facciamo prima Facciamo tipo così Qua voglio mettere 55 ragazzi Qua proprio Al centesimo Stiamo ragionando Però allo stesso tempo Se non lo prendiamo Mo Non lo prendiamo più Qua quanto posso arrivare 379 465 Massimo Quindi Devo fare una roba Del genere Così Benissimo Ce la faccio Mi restano 15 mila euro Fantastico Posso mettere Un bonus Solo Reti inviolate Però facciamo 15 Perché ragazzi Difficilmente raggiungeranno Questo bonus Ti do 750 mila Che non posso fare Benissimo Quindi niente bonus Ok Mi dispiace Ma niente bonus Avanziamo Questa offerta Ti prego No Peccato ragazzi L'unica cosa Che posso fare Ragazzi È provare ad aumentargli Più possibile Il bonus Cioè proprio Lo stipendio in sé A quanto posso arrivare Fatemi vedere 60 mila Posso arrivare Se qua metto 0 Ok Posso arrivare a 65 Sì Posso arrivare a 65 Ma anche a 70 No Massimo 65 Quindi caro Mi dispiace Ma la mia ultima offerta È questa qui 65 mila euro Senza nulla Dai Ti prego Accetta Per pochissimo Dai ragazzi Sarebbe una sfiga assurda Più di questo Non posso darti Mi ha assistito Bisogno di tempo No Perché bisogno di tempo Però magari Se siamo fortunati Parte già Saivald E quindi dovremmo Riuscire tranquillamente A prenderlo Quindi raga Siamo in stallo Pure noi Ci siamo messi in lista No Insieme a tutte le altre squadre Che a lui Che a lui Effettivamente È in scadenza Quindi è per questo Che risulta essere accessibile Comunque ragazzi Andiamo avanti Qua è stata Una delle trattative Più assurde Della mia vita E occhio ragazzi Ormai stiamo arrivando Anche al giorno Della partita Contro lo Spezio Offerta inaccettabile Ma Saivald Deve essere ancora Deve essere ancora venduto Offerta per Udoji E aggiornamento Delle osservature Occhio ragazzi Qua proprio C'è tutto così flessibile Si sposta tutto Nel giro di un giorno Se faccio Stavolta voglio fare Stavolta voglio fare Ragazzi Ce l'abbiamo fatta È arrivato Calulù alla fine C'è il lieto fine Benissimo ragazzi Quindi Non ci servirà La cessione di Saivald E quindi Il suo sostituto Sarà Da Diciamo Da gestircelo A parte In un certo senso Con i soldi Che arriveranno Da Saivald Che saranno Minimo 90 milioni Che ci metteranno A disposizione E quindi Raga Quel musiala Quel musiala Lì ragazzi Che costa così poco Comunque Penso sia stata Una trattativa Veramente fantastica Soprattutto Per quanto riguarda Il brivido Del contratto Ma dovrebbe essere Una Infatti Abbiamo guadagnato Molto Proprio ragazzi Abbiamo tirato Ma in una maniera Impressionante Adesso infatti Ragazzi Dovremmo avere Proprio Zero Di budget Comunque Sono contento Che sia arrivato Un giocatore Come Calulu Un giocatore Che comunque Più che valido Come sostituto Anzi Sicuramente Un giocatore Molto forte E infatti Ragazzi Siamo rimasti Con zero euro Che però Tra poco Verranno Rimpolpati Per così dire Comunque ragazzi È arrivata Un'offerta Per Udo oggi Da parte del Chelsea Attenzione Udo oggi Che io valuto Sempre 70 milioni Quindi trattiamo Vediamo un po' 70 milioni Che il Chelsea Rifide a prescindere Il Chelsea Di Potter Comunque ragazzi Adesso effettivamente Il discorso Sul centrocampista Si potrebbe fare Proprio in modo Più accurato Perché Sicuramente Ci servirà A prendere Un nuovo centrocampista Che Molto probabilmente Per qualità Prezzo Già Sembra essere Chiaro Ed evidente Chi sarà Però vediamo Perché noi vogliamo Un 85 Quindi cerchiamo Con attenzione Partiamo da Qui Quindi con Chiamini Che però Chiaramente fuori portata Gavi è appena andato All'Atalanta Ed è ancora Un 84 Ma sicuramente Ragazzi Crescerebbe tanto Poi appunto Ragazzi Diciamo Al Musiala Che ragazzi Costa solamente 89 milioni Lui vale 110 milioni Però ragazzi Allo stesso tempo Dovrebbe fare Il centrocampista centrale Io Musiala Come centrocampista centrale Non è che lo vedo Così bene Perché secondo me Lui In un certo senso È sprecato In questa posizione Un po' più avanzato Potrebbe essere interessante Ma allo stesso tempo Ragazzi Per come giochiamo noi È la mezzala Perfetta Perché appunto Noi siamo molto Molto offensivi Quindi un giocatore Come lui Aumenterebbe Sempre di più Questa nostra caratteristica E poi ragazzi Centrocampo Zaniolo Camavinga Musiala Solo a sentirlo Mi eccito Quindi già ragazzi Quindi secondo me È effettivamente Da considerare Però allo stesso tempo Ci sono altri giocatori Interessanti Come appunto Vitigna Che però fuori portata Rovella Che comunque è un 84 E costa veramente Pochissimo ragazzi Se per caso Matazo parte Mi prendo assolutamente Lui Che costa veramente Nulla È sprecato Alla Juve Però ragazzi Se Matazo Non parto Ovviamente Non vado a fare Questi scambi Che alla fine Sono solamente Per far spettacolo Quindi A sto punto Preferisco Tenermi Matazo Visto che ragazzi Già abbiamo fatto Tantissime sessioni Quindi Sicuramente Va bene così Sì c'è Enzo Fernandez Che è il mio preferito A livello proprio Di qualità Che ragazzi Enzo Fernandez È veramente forte Sinceramente Nel momento in cui Ci arriveranno i soldi Un tentativo Però A farlo pure Per Enzo Fernandez Provando anche qui A mettere tipo Non so Le clausole Per la rivendita Eccetera eccetera Perché lui È perfetto Come centrocampista centrale Lui proprio È perfetto E pure un centrocampo Enzo Fernandez Camavinga E Zaniolo Sicuramente È un altro centrocampo Che fa paura Però ragazzi Paradossalmente Musiala Costa meno Ed è più forte Quindi È veramente assurda Sta situazione Ed è stato tutto Un mercato così Fatta di queste occasioni Se così vogliamo definirle Poi anche Che Fren Turam Sarebbe accessibile Miretti Che anche costa pochissimo Ragazzi Ma questi giovani Sono spregatissimi Alla Juventus Poi c'è Cone Che è un altro giocatore Molto interessante Un 85 È molto forte lui C'è Davidino Frattesi Che è qui è andato Al Nottingham Forest Bellingham Fuori portata E poi ragazzi Fondamentalmente Basta Perché qui abbiamo Il C.O.C. Che però appunto Sono i C.O.C. Shopo Sly Quanto sei bello Shopo Sly No ragazzi Questi sono i giocatori Sì ragazzi Direi Che Fra uno di questi Ma io penso Che già possiamo dire Fra Enzo Fernandez E Musiala Uscire il nostro Nuovo centrocampista Paradossalmente Se vogliamo andare Sul sicuro Proprio sulla sicurezza Della trattativa Ci prendiamo Musiala Ed è assurdo Che io stia dicendo Questa frase Però se vogliamo Provare a prendere Non so Un giocatore Che preferiamo Almeno personalmente Di più Proverei a prendere Enzo Fernandez Poi anche nella posizione Secondo me È meglio Enzo Fernandez A parte che lo cerchevamo Già Da più anni L'abbiamo proprio visto Crescere con l'Overall Adesso è ancora Alla Lazio Quindi Ci potrebbe stare Tranquillamente Comunque ragazzi Io per oggi Mi fermo qua Mi è sembrata Una puntata infinita Secondo me Sarà un video Abbastanza lungo Abbastanza corposo Comunque Prossima puntata Che inizierà ovviamente Con la sfida Con lo Spezia Poi ci faremo Questa settimana Di calciomercato E Sia vencerà a tempo Chissà Vedremo anche La partita contro l'Empoli Ormai raga Mancano massimo Due puntate E penso che Il calciomercato Finirà E sicuramente È stato un altro Mercato Veramente Incredibile Con tantissimi Colpi di scena E non ultimo Appunto Saivald Che probabilmente Volerà in Spagna Per 95 milioni Acquistato Non so A quanto Sicuramente Ragazzi Stiamo facendo Delle plusvalenze Che Farebbero invidiare Tutte le squadre Del mondo Comunque ragazzi Io per l'appunto Per oggi Mi fermo qua Come a solito Vi invito a lasciare un mi piace Iscrivetevi al canale Seguimi sulla pagina Instagram A sostenere il canale Tramite una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima